Ora sentirete le due inchieste che affrontiamo adesso. Lino Stoppani, Presidente FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Vice Presidente con Commercio. Benvenuto Stoppani. Grazie per l'ospitalità. Buonasera. Guarda, a me fa ridere Stoppani perché quando lo sento mi ricorda le grandi battaglie, quanto abbiamo litigato in questi ultimi vent'anni prima anche di Italia. E' una battaglia con i fiori. E' una battaglia con i fiori. Sì, sì, volavano i carciofi con le spine, caro Stoppani. Esatto, esatto. E quindi mi viene un po' di tenerezza. Ma adesso partono di noi i carciofi con le spine. Allora, Roma, vi do la notizia. Sembra piccola ma tutti i giorni ci ritroviamo davanti a un divieto. Io non lo so voi, ma io non ne posso più di divieti. Però ci devono essere perché anche questi regolano anche l'educazione delle persone quando l'educazione non ce l'hanno. Però sentite un po', io voglio capire, Stoppani, lei cosa mette sotto inchiesta? Se è capace di mettere sotto inchiesta uno magari della sua federazione, delle persone che lei difende tutti i giorni, difenderebbe. Voglio capire. E se è legale quello che ha fatto questo ristoratore. Ha vietato l'ingresso ai bambini nel suo ristorante. La ragione è mancanza di spazio, i passeggi sono troppo grandi, occupano tre posti, i genitori sono maleducati, i bambini corrono nel locale, il parabunzi punzi 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 punzi. Allora, Lino Stoppani, si può fare? Può essere? Ci può essere un divieto di questo genere? Beh, è chiaro che è... Cosa dice la legge, al di là della sua opinione? La legge non vieta di disfinare le proprie debità secondo le convenienze che il ristoratore ha. Cosa vuol dire? Non ho capito, tradotto? Secondo le convenienze, vuol dire, se in una situazione per il determinato tipo di tipologia di offerta, per situazioni di pericolo, perché nel ristorante transitano anche coltelli, acqua calda, situazioni di rischio, insomma, posso assolutamente, ed è anche una scelta autolesionistica da un certo punto di vista, perché vuol dire pregiudicare la possibilità di fare affari, ma se nel mio ristorante, dove ho anche una determinata tipologia di offerta, dove evidentemente registro intemperanze che evidentemente infastidiscono gli altri avvettori, ho la possibilità di intervenire vietando l'accesso dei bambini all'interno del mio esercizio, ma questo è assolutamente legittimo e fa parte della libertà di impresa. Ho capito, quindi anche se è un esercizio pubblico, si può vietare l'accesso, diciamo per norme di sicurezza, questa mi sembra la motivazione più seria, onestamente non mi sento di metterla sotto inchiesta, cioè mi sembra comprensibile perlomeno, no? Certamente, voi avete parlato prima di bullismo, di queste cose, ma ci sono anche gli aspetti di buona educazione, gestire i bambini, molto spesso è molto complicato, anche se tenere fermi dei bambini è una delle altre cose impossibili nel mondo, l'altra è quella di far correre gli anziani o far tacere le donne, come dice un'altra cattiveria, insomma, al di là di questa cattiveria è l'altro, però insomma, bambini che corrono per i ristoranti, certamente non è una cosa, da una parte commerciale corretta, dall'altra parte c'è anche i pericoli a cui io facevo cenno inizialmente. Questo l'ho capito, questo mi interessa, questo l'accetto come motivazione, anche se forse magari non è quella vera, ma mi va bene, se è per la sicurezza dei bambini, che giustamente in un ristorante non ne possono più a volte stare seduti, questi sono gli adulti che devono capirlo anche, che i bambini non possono stare seduti ore o anche troppo tempo, va bene, ho capito. Si può vietare l'ingresso ai cani? Adesso c'è una legge particolare, l'ha fatta la Bramvilla se non ricordo male, l'ingresso ai cani? Se non danno fastidio, se sono tenuti con educazione? Certamente, anche questo è un fatto di buonsenso, insomma. Si può vietare? Si può vietare, certo, nel pubblico esercizio c'è la somministrazione di cibo con tutte quelle che sono le criticità, anche dal punto di vista igienico-sanitario, per cui se non ho, provi a pensare per esempio a un ristorante che si fa il buffet, certamente la presenza di un canno non è sia dal punto di vista igienico come da questi prodotti, assolutamente. Si può vietare a un extracomunitario? No, se mi parlo... Non faccialo stupito, Stoppani, perché lei lo sa che è successo, questo glielo credo. No, no, ok, non è vietato assolutamente, soprattutto se pare, ben accetto, come tutti i nostri comunitari. Si può vietare a un clochard, a un uomo magari in condizioni igieniche messo male, insomma, un poverino... Ma in un bar mi impongono la cravatta, no? No, va bene, adesso facciamo dei casi limite, non è vietato. Non si può vietare per una questione di abiti, certo, se uno va in mutande, visto che vediamo che era mai in mutande, si fa di tutto, penso ai cartellini, c'è un decoro che va rispettato, anche dentro nei bar, anche se è un esercizio pubblico, quindi non possiamo pretendere, in questo senso io credo che ci sia la regola, di igiene, e anche di sicurezza, di sicurezza e di decoro... Di offerta commerciale, certo, con gli slip e basta, nine, ho capito. C'è qualche altra cosa che vuole mettere sotto inchiesta, lei non mette sotto inchiesta un bel tubo di niente, allora io vado avanti perché mi interessa cambiare musica, però Lino Stoppani resta con me perché c'è un'iniziativa interessante del Comune di Firenze, ecco, non l'ha fatta Renzi, quindi state tranquilli, non è niente legato, anzi, l'ha portata avanti un giornale che, insomma, con Renzi non è che sia proprio, che vada d'amore e d'accordo, è anche dei giornalisti che, insomma, in genere quando c'è da picchiare, picchiano, quindi guardate la notizia, ascoltatela solo per quello che riguarda la notizia e basta. E lo chiedo a voi, ve l'anticipo, secondo voi è corretto eliminare dai centri storici, diciamo così soprattutto, dalle nostre città, per una questione anche qui di degrado, di decoro, i mini market, i venditori di kebab, tutto ciò che è plastica, tutto ciò che è fuori dall'equilibrio della storia e via dicendo, tra poco. Ce ne sono tanti altri, ma devo affrontare, voglio affrontare anche questo argomento. Lino Stoppani, come dalla prima parte della trasmissione, Presidente FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Vice Presidente di Commercio, benvenuto, benvenuto, buonasera. Allora, Tommaso Montanari, docente con un M sola, attenzione molto importante, docente di storia dell'arte moderna all'Università Federico II di Napoli, collaboratore del Quotidiano La Repubblica, oggi un'inchiesta interessantissima di Repubblica, perché parte da un piccolo grande fatto di Firenze e poi però tocca un punto importante, il degrado nelle nostre città. Buongiorno Montanari, buonasera. Buongiorno. Non so mai cosa, come professore le devo dire buonasera, come collega mi faccio la coda del pavone e ti do del tu. Bella l'inchiesta di oggi. Bella. Allora. A merito dei colleghi giornalisti. Di tutti voi, infatti Massimo Vanni, giusto? Sì, esatto. Tommaso Montanari, c'è un'intervista anche di Gabriele Cuccione, molto importante il caporedattore di Repubblica che ha portato avanti, anche se ho capito bene, una battaglia forte su questo a Firenze. L'avete vinta, a volte le battaglie si vincono. Tommaso Montanari, me la vuoi dare tu per piacere la notizia? Sì, Firenze ha uno dei grossi problemi, che sta diventando una non città, è avviata sulla via di Venezia. Questo succede per due problemi, le manifestazioni sono due. Da una parte è quella che si potrebbe chiamare una gentrificazione, cioè diciamo un'espulsione dei residenti per come cambia il tessuto dal basso, spariscono i nostri quartieri, spariscono le cose per i residenti e si riempie di tantissimi piccoli esercizi anonimi a catena, vendite di alcol, money transfer e altre cose. Chebab, minimarket, voi parlate anche di questo, giusto? Tutte queste cose. E su questo fronte il Comune di Firenze finalmente interviene con un regolamento che dice una cosa molto importante, non ci possiamo lasciare regolare dal mercato. Queste cose nascono perché c'è una domanda, vabbè, questo però non è l'unica legge che governa la nostra vita. Dire una cosa del genere in un'Europa, in un'Occidente dominato dalla religione del viverito del mercato è una cosa coraggiosa. Naturalmente perché sia veramente coraggiosa, io provo a dire nel commento di oggi, bisogna che poi ci sia la seconda parte, cioè che ci si prenda con la gentrificazione dall'alto, cioè con la vendita dello spazio pubblico, con i palazzi pubblici che diventano grandi alberghi di lusso, con le catene per il lusso estremo, cioè per la Firenze-Vetrina, la Firenze-Talotto, perché sarebbe troppo facile essere forti con i deboli, questi negozi piccoli sono tenuti dai migrati, rappresentano la parte bassa, bisogna prendersela anche dalla parte alta. Se vogliamo che le nostre città diventino, rimangano ancora città, Firenze perdi, centro storico di Firenze come molti altri centri storici. Noi parliamo di Firenze perché questo è successo a Firenze, la notizia di oggi e l'inchiesta di oggi, ma attenzione, vale probabilmente per tantissime altre città, anzi, tolgo il probabilmente. E diciamo, Venezia è il traguardo finale, c'è una farmacia, Venezia che è fuori un orologio, che segna quanti Veneziali se ne sono andati ogni giorno, è una città che ha, penso gli abitanti, che aveva nel Cinquecento, ci sono intere parti deserti, Firenze è su quella strada, molte altre lo sono, città d'arte come città disneyane, se vuoi all'Aquila con il terremoto, questo fenomeno si è accelerato drasticamente, lì i cittadini sono stati portati preso per lo sguori Bertolato nelle New Town e ora il centro si restaura, ma nessuno ci vuole tornare perché mancano i servizi, manca tutto, si deve avere una quinta monumentale vuota che è un'accelerazione drammatica di un processo che però molto più lentamente sta avvenendo. Allora il fatto che si provi a governare l'esistenza e non abbandonandosi alla presunta regolazione del mercato dell'economia brutta, secondo me è una buona notizia, certo è un piccolo passo iniziale ma è un passo. Attenzione, non è che si vuole eliminare completamente l'economia, non è che noi stiamo parlando con uno che vuole radere al suolo qualsiasi situazione commerciale, però selezionarle se ho capito, creare un'armonia tra quello che c'è intorno e quello che si vende dentro nei negozi. Esatto, delle regole che portino ad avere delle strutture che rendano la vita vivibile per i cittadini. Domanda veloce, Tommaso Montanari, poi passo a Lino Stopani, non è che volete fare dei musei all'aperto dei centri storici? Paradossalmente è già così, queste città rischiano di essere dei musei con tanti piccoli shop di bassissima qualità e poi con le catene del lusso. Il problema è che nei musei non ci sono residenti, questi sono una metà fra musei e centri commerciali, non devono essere l'uno o l'altro, devono essere città. Città belle che mantengono il proprio fashion. Noi mettiamo sotto inchiesta tutto questo. Lino Stopani, lei come Presidente della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, ma lei gestisce anche i venditori di kebab, i minimarket e via dicendo? Tutto quello che è fuori casa fa parte della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, ma questo è un ottimo provvedimento perché è l'applicazione di una norma che la direttiva Bolghe che consente alle amministrazioni comunali quella che è la pianificazione qualitativa del pubblico esercizio, intendendo per qualitativa la possibilità che un'organizzazione pubblica abbia la possibilità di valutare l'impatto socioambientale di un pubblico esercizio o di un'attività di natura commerciale, prevedendone anche, come in questo caso, dei divieti per l'espansione. Ma dietro il provvedimento di Firenze però c'è un'altra motivazione molto importante che è il tema della patologia collegata all'abuso di alcol che l'amministrazione comunale ha voluto tamponare. Oggi c'è un gravissimo problema in giro per il nostro paese che è l'abuso di alcol di minorenni e di quarantenni e questo potrebbe diventare umana direttiva. Ci torniamo. Allora, l'ha fatto Firenze, Tommaso Montanari, se voi continuate le vostre inchieste sul territorio italiano, perché qui si parla anche di UNESCO, di un patrimonio pubblico importante che va salvaguardato, io vi seguo, eh? Grazie, grazie per il vostro lavoro. E grazie anche a Firenze che ce l'ha fatta, l'ha fatta. Stoppani, complimenti, lei è stato corretto, molto onesto. Una volta tanto non ha difeso solo i suoi. In redazione per questa puntata, per questo gruppo di inchieste, Michele Afferrante, Alessandro Allegra, Cecilia Mosetti, in regia Gabriele Procani, il nostro tecnico Stefano Catini, io dalla linea, Maria Teresa Bellucci, io sono Falcetti!